La licenza poetica costa tantissimo, ma quel tantissimo che costa ce l'abbiamo in banca, quindi dipende soltanto da noi se tirarlo fuori o meno. Vorrei anche azzardare dicendo che tutti quanti noi siamo una licenza poetica. Se noi affrontiamo la vita seguendo il libro di testo non andiamo da nessuna parte. Se noi proviamo a diventare sempre un'eccezione a quello che è stato il percorso, riusciamo a stare bene. Il senso giusto è però essere una sola licenza poetica, se no andiamo troppo dall'altra parte.